Partorire oggi a Vibo Valenzi è sicuro? È sicurissimo, non sicuro. Parola del direttore generale dell'ASPA, Angela Caligiuri, che torna a tranquillizzare i cittadini e soprattutto le partorienti. Pur non nascondendo i problemi e le difficoltà denunciati dai medici riscontrati nel corso della recente ispezione del Movimento 5 Stelle, il DG spiega come siano iniziati già da tempo lavori di ristrutturazione del reparto. È due volte che viene spostata la sala parto, proprio per fare in modo che venga fatta secondo quelle che sono le normative. Quando finiranno? Entro gennaio, entro la fine di gennaio si dovrebbero concludere. La stessa annuncia l'avvio delle procedure per bandire un concorso di primario in ginecologia. Noi siamo convinti che tanti problemi che attanagliano questo reparto saranno risolti con la nomina del primario. Nel frattempo la nomina coordinatore del dottore Rodolico, direttore del Dipartimento della Chirurgia, a lui spetterà il compito di adeguare la turnazione tra i medici del reparto di ginecologia e ostetricia. La decisione è stata presa nel corso del Vertice in Prefettura. C'è da parte di qualcun allarmismo che vorrebbe far chiudere, questo allarmismo vorrebbe portare a far chiudere l'ospedale. Noi siamo affinché l'ospedale rimanga qui, rimangano qui i dipendenti e per questo lavoreremo. Qualcuno dice che state facendo allarmismo, è così? No, non ho ricevuto alcuna denuncia dell'armismo. Casomai ricevo continuamente sostegno da parte dei cittadini che giustamente temono per il loro diritto alla salute. Al termine dell'incontro il prefetto Guido Longo si è impegnato a inviare nei prossimi giorni una nota al commissario della Sanità Massimo Scura per illustrargli la situazione di disagio che sta vivendo in particolare il punto nascita dello Iazzolino e chiedere un adeguato incremento di organico, indispensabile per la conduzione del reparto. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24